Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, mister affitti Brianza e ti porto in visita in un immobile presentato dal manager dell'affitto Giuseppe Di Napoli. Ci troviamo a Varedo in zona Valera in un trilocale non arredato completo di cantina e posto auto. Ingresso su ampia zona giorno composto dal soggiorno con cucina vista. Ambiente ampio e luminoso grazie alle porte finestre molto ampie. che conducono al balcone semiperimetrale che conduce ad un terrazzino. Appartamento in contesto di palazzina di nuova costruzione del 2023 dotata di domotica, aria condizionata, riscaldamento a pavimento e fotovoltaico nelle parti comuni. L'appartamento è dotato anche di cantina e posto auto scoperto. Ottime rifiniture. Dal disimpegno centrale abbiamo accesso al bagno con sanitari, finestra e doccia. Camera da letto matrimoniale con accesso ad un balcone attraverso la porta finestra. Proseguendo sul disimpegno abbiamo accesso allo studio o cameretta. a seconda dell'utilizzo. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.linviate.soloaffitti.it per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo affitti, affittare con sicurezza. Grazie. Grazie. Grazie.